La Regione presenta il nuovo piano per il contenimento delle liste d'attesa in campo sanità. L'esempio arriva dalle Regioni Umbria e Toscana, virtuose in merito alla ridistribuzione di risorse e ottimizzazioni delle prestazioni sanitarie. Spiega l'assessore Silvio Paolucci, esistono casi in cui i macchinari restano imballati o sottoutilizzati. Migliorare l'offerta sanitaria si può. Vogliamo aggredire uno dei principali problemi del sistema sanitario regionale abruzzese, quello relativo ai tempi d'attesa che i cittadini purtroppo debbono attendere quando chiedono una prestazione e soprattutto una diagnosi. E noi interveniamo stanziando 8 milioni di euro per finanziare 16 linee di azioni che sostanzialmente poi poggiano su tre aspetti principali, una appropriatezza prescrittiva alla base, un'offerta che deve essere più adeguata e pertanto incentiviamo le risorse umane, un particolare accordo di complementarità con la sanità privata, in aggiunta laddove dovesse essere necessario ulteriori strumentazioni finanziate e poi terzo punto una gestione organizzativa più all'altezza. Altra novità introdotta per rendere più efficienti i servizi è quella di ampliare i luoghi adibiti alla prenotazione, offerta che si estende a quelle che l'assessore chiama Farmacup. È previsto che noi ulteriormente integreremo il servizio anche sottoscrivendo con le farmacie un accordo per i cosiddetti Farmacup. In tal modo i cittadini troveranno davvero tanti sportelli sul territorio regionale a dimostrazione che intendiamo fare sul serio e che appunto intendiamo addirittura finanziare con 8 milioni di euro.